Ciao a tutti, mi chiamo Christine, ho un grosso problema ai piedi, piantari, caviglie e gambe e avevo bisogno assolutamente di fare esercizi per rinforzare questi elementi. Sono più di tre anni che vengo regolarmente all'under training due volte alla settimana. I benefici sono stati diversi, sono diversi, prima di tutto a livello psicofisico, ma il rinforzamento dei piedi, caviglie e gambe, fiducia in se stesso, nel proprio corpo e un riequilibrio generale. Anche se non siete più in una categoria come me di vent'anni, la palestra è a portato di tutti. Basta affidarsi al personal trainer o un trainer giusto che saprà risolvere anche i vostri problemi. Non ci resti ad andare a fare attività fisica, non ci resti al movimento oggi? Assolutamente no, neanche per sogno, anche malata ci vado. Vieni.